Sembri il tipo di donna che apprezza le cose raffinate. Vieni a sederti e accarezzai il copriletto vellutato. È inutile, non sono in vena. Lel, velluto su velluto. Lasciati andare, andiamo. Basta, capitano, mi faccia tornare in prigione. Preferisci la prigione piuttosto che passare una notte a fare zapping con zap? Sì, lo preferisco. Che sta facendo? Oddio, sono patetico. Scusa, va pure. Vuoi il resto dello champagne? No, e si pronuncia champagne. Anche questo no! Non è la fine del cosmo. Mi sento così solo e ho creduto che tu, collega capitano, avresti capito. Lasci perdere. Si gode a dare ordine a destra e a sinistra, ma cianonostante sia completamente soli. Fa parte del lavoro. Sono sempre solo solito. Su, la prego. Non si deve abbattere. Non è così grave. Vuoi tentare ancora di evadere? No, sta benissimo. Cavolo, Lela è via da parecchio tempo. Speriamo che riesca a convincere quello zappatore di Brannigan. Buongiorno, amore. Oh, senti, Zapp. Ora sei ufficialmente la mia donna. Ti invidio, Lela? Non ti invidio? Ti invidio. Zapp, questa notte è stata un errore. Un errore molto sexy. Senza aggettivi. È stato un errore e basta. Per una frazione di secondo il mio buonsenso è stato sopraffatto dalla pietà. Quella frazione di secondo è vitale. Per questo sono sicuro che prima o poi tornerai strisciando dallo zapper. Guarda, l'unica direzione in cui striscerò sarà lontano da te. Chiaro? Lela disattiva, ti sei ancora confusa ed eccitata. Ascolta, ora esco e vado su Vergon 6 a salvare quegli animali. Che ti piaccia o no? Coraggio, non ti fermerò. Non riuscirai a... Aspetta, cosa? Sappiamo tutti e due che quando ti troverai a metà strada da Vergon 6 comincerà il suo collasso. Allora tornerai strisciando per avere un altro assaggino, uno stuzzichino del mio pasticcino. Bam. Kif! Sì? Dica, capitano. Ho appena sedotto una donna. Informa gli uomini.